A seguito dell'annuncio della chiusura di strada Arnaldo Carloni vicino agli orti degli anziani per il completamento dei lavori della bretella autostradale, si era accesa l'attenzione sul destino delle querce ai lati del percorso. Purtroppo, si legge in una nota del neonato comitato Salviamo le querce di Pesaro, a tutt'oggi non risulta che si sia preso atto della loro esistenza e le piante continuano ad essere trattate come arbusti da accantonare per far posto alle barriere antirumore in acciaio. Presto dunque saranno abbattute a fronte di questo pericolo, hanno aggiunto, non resta che il ricorso è una denuncia formale alle autorità competenti per danni irreversibili all'ambiente e al paesaggio. In mattinata sono stati chiamati anche i carabinieri. È un delitto contro i patti presi per cui il comitato ha avuto garanzie da parte del direttore dei lavori che la querce non sarebbe stata toccata fino a quando non avessimo individuato o una linea comune o un'netta demarcazione tra le due parti. Questo incontro è previsto tra due ore, quindi non si capisce perché si debba operare in questa fase. Questa è la prima manchevolezza sotto ogni profilo di rapporto intergruppi che è una sociale. La seconda è perché questa quercia è da salvare, nel senso che c'è una legge regionale, di là dal fatto che coscientemente chi fa un progetto di questo tipo da solo vede che è un elemento guardi intorno, è l'elemento principale di questo paesaggio. Quindi se si danneggia quella quercia il primo delitto è verso il paesaggio. Il secondo delitto è verso le istituzioni che hanno fatto una legge apposita per salvare le querce. Il terzo delitto è sulla procedura per ottenere questo tipo di abbattamento perché le querce si possono abbattere soltanto avendoli individuate una per una con delle autorizzazioni ad hoc e queste autorizzazioni in questo caso non ci sono perché la querce è massificata in un gruppo di arbusti da demolire che verranno compensati con un boschetto di pianticelle di vivaio alte un metro che sarà posto qui davanti. Le querce sono sette? Le querce sono sette, si parte da qui e sono là. Per abbattere le querce, ha proseguito l'architetto Filippini, occorrono delle alternative al tracciato e alle barriere agli atti mai evidenziati. L'errore di fondo da parte di chi è preposto al controllo è stato quello di non aver preteso questa verifica. Loro non l'hanno fatto e noi abbiamo chiesto un incontro con il Comune per portare noi queste alternative, per cercare di chiudere l'episodio all'interno del percorso possibile, nel senso che fino a quando le querce non sono abbattute non siamo in ritardo. Anche lei stamattina qua presente a difesa delle sette querce secolari? Sì certo, siamo qua come legambiente a difesa di queste querce. Abbiamo già fatto un esposto e l'abbiamo già inviato ai carabinieri la scorsa settimana. Questa mattina abbiamo un incontro in comune con la società autostrada e con il Comune stesso per vedere appunto come rimediare e ci troviamo una sorpresa un'ora prima dell'incontro che stanno già cominciando a tagliare. Ci sembra una cosa molto scorretta anche perché secondo noi c'è la possibilità di evitare l'abbattimento di queste querce con soluzioni tecniche diverse rispetto a quelle progettate dalla società autostrada, quindi ci sembra logico ragionare in questi termini e trovare un accordo. Durante l'incontro con i tecnici di società autostrada e il Comune poi è stata esaminata una proposta ed un'altra verrà sottoposta all'esame delle parti per arrivare ad un'intesa al momento le querce non verranno abbattute.